Con la presentazione di questa app Montagne Terramanambiente compiamo un piccolo passo tecnologico in avanti per dare ai cittadini e alle collettività che noi serviamo sia con i servizi di raccolta sia con i servizi di conferimento nelle stazioni ecologiche che abbiamo e che avremo dell'informazione e tutte quelle utili necessità che devono essere raccolte in momenti in cui un cittadino volesse avere ad esempio il giro degli ingombranti o di altri servizi particolari. Sappiamo pure che questo ci sommergerà magari nell'immediato di informazioni o di proteste o di richieste ma questo fa parte del gioco e quindi noi accettiamo ben volentieri benefici e come dire oneri della modernità. Naturalmente l'app è scaricabile su qualsiasi tablet o device, basta accedere al sito nel Play Store oppure nell'App Store cercando l'app Montagne Terramane e quindi si può scaricare direttamente oppure attraverso il link sul nostro sito, è abbastanza semplice, naturalmente gratuita. Grazie. Grazie